Allora, la domanda che le pongo adesso, cara signora mia, è questa C'è qualcosa che l'imbarazza nella vita? Qualcuno in generale? Capitato? Qualche... L'imbarazza? Sì, niente No Un cavolo Niente No, non credo, no, non mi viene niente Una persona che è rilassata, serena, non si imbarazza mica No, anzi, imbarazzo di solito Ah, sì, sono gli altri? Che lei magari è, essendo vivace Un po', sì, sì, un po' Diretta, diretta Ah, vero, questo, questo, questa è una cosa interessante Le persone dirette a volte possono anche creare imbarazzo perché vanno dritte al punto, no? Sì, sì, sì Porca la miseria, signora mia